Non l'ha mai fatto, però poi... Ma questo, secondo me, scusa, secondo me questo era il primo punto essenziale? Sì, ma il punto essenziale è per farlo capire in una piazza, ci vuol dire due ore di amministrare la moneta. No, in modo semplice. Ma no, ci riprendiamo la nostra moneta con un referendo... Perché c'era il professor Auriti? Ma lo facciamo bene. Eh sì, appunto, siccome io ho un punto... Ma faremo un referendo sulla moneta, ci riprendiamo? Sì, sono le decisioni che non puoi prendere, ci sono la gioia. Ma è un'eventualità che si metterà sul referendo. Ma era il primo punto delle delle cose, no? No, ci riprendiamo la sovranità è un... Ma quello è il punto fondamentale, si azzerava il tempo. Ne riprendiamo la moneta con un... Siamo in un mondo pulito, è sempre lei.